roberta beta non ha certo bisogno di presentazioni però invece una cosa oggi ce la deve dire come mai e qui in veste di visitatrice di curiosa per quanto riguarda una visita che il trentino fa in roma a promuovere i suoi prodotti tra cui le meravigliose grappe beh perché io normalmente da roma vado in trentino a visitare i luoghi perché sono una golosa di prodotti tipici e quindi anche di grappe e non potevo non fare nel mio piccolo gli onori di casa a questi grandi produttori che tra l'altro allietano il palato sempre con buon senso di degli sciatori che a volte quando fa un po più freddo sciano un po di meno si fermano nella malga e si bevono un bel grappino anche perché le grappe del trentino sono buonissime e sono soprattutto realizzate artigianalmente quindi a parte chi le cose se le fa proprio dentro casa però insomma sono prodotti artigianali anche se diciamo prodotti un po più su larga scala e poi c'è da dire devo dire che conosci molto bene l'argomento roberta abbiamo capito che bastichi spesso da quelle parti c'è da dire che che si occupa di spirito di vite molto spesso alle sue spalle già un mondo vitivinicolo e poi sono sempre delle grandi famiglie dove la tradizione si trasmette di padre in figlio questa è una delle cose belle della nostra italia è questa è la forza della nostra italia è il motivo per cui il made in italy soprattutto per quello che riguarda il food è così ambito è così ahimè anche imitato però devo dire la verità che si deve parlare di imitazioni di tutto ma della grappa ancora no perché come giustamente dicevi tu queste famiglie per tradizione si tramandano gli alambicchi e i segreti per cui una grappa per essere veramente buona può essere gustata in loco o in alcune sicuramente enoteche selezionate dai produttori stessi grazie a tutti